stalingrado 1942 dopo aver bombardato la città riducendola ad un cumulo di macerie le forze tedesche fronteggiano la tenace resistenza dell'armata rossa sovietica concentrata nella difesa della città nel caos della guerra senza fine le linee di battaglia si sono dissolte la città in rovina è stata divisa in presidi separati dalla terra di nessuno il vantaggio tattico della guerra lampo tedesca e degli attacchi coordinati di fanteria e carri armati viene ostacolato dalle anguste strade cittadine minacciate con la pena capitale in caso di ritirata le truppe sovietiche si preparano al bagno di sangue vasili prendi la seconda squadra e ripara il cavo del telefono da campo io ripulisco gli edifici con la prima squadra e ti raggiungo dall'altra parte vai si compagno da compagno subito compagno scuoriate per un governo guerra fondaio e per quel mostro assedato di sangue che è stalin non c'è disonore nella resa è un mucchio di macerie è un mg 42 dall'altra parte del muro crollato verso ovest sono fuori gioco devo ricaricare vicino al muro crollato verso ovest da compagno seguitemi da compagno truppe tedesche al primo piano a sinistra un fascista in me non li puoi preoccuparti un fascista in me non li puoi preoccuparti non 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 I fascisti! Al secondo piano! Siamo arrivati! Trovate un riparo! Abbiamo scelto! Abbiamo scelto! Siamo arrivati! I tedeschi! Dall'altro lato dei sacchi di sabbia! Verso ovest! Muori, Fritz! Ti scongeleremo in primavera! Trovate un po' e vuole ritroffere! Sovieti, ho trovato! Non si accompagno! Compagno, soldato! Al riparo! Batteria nemica! Dietro ai sacchi di sabbia! Uccidete i fascisti! I suoi! Estesate! I tedeschi! Dai sacchi di sabbia! Sul fianco sinistro! I fascisti! Ho una granata per te, porca fascista! Sì, compagno! Sì, compagno! Copritemi! Comunisti! Edeschi! Edeschi! Pannanburden! Italisi! Piano inferiore! Uccidete i fascisti! Avete freddo? Viete stanchi! Al più vicino ospedale da campo tedesco che attendono cibo, caldo, vestiti e asciutti, scure mediche e un posto sicuro per riposare! Batteria nemica! Al primo piano! Rassi! Hanno ricevuto l'ordine trattativo di abitare tutti i compagni sovietici che ottino per un onorevole resa! Megliate che a me, fascista! Uccidetevi! Piano inferiore! A destra! Golia! Trovate un riparo! Batteria nemica! Vicino a quel mucchio di macerie! Verso sud! Sì compagno! Batteria nemica! Accanto al camion! Verso sud! È una MG42! Verso sud! Batteria nemica! Verso sud! Pavel! Al riparo! Trovate un riparo! Piazza patate! Correte! Fascisti! Accanto al camion! Verso sud! Batteria nemica! Dietro le casse di riportimenti! Verso sud! Tedeschi! Vicino a quel camion! Verso sud! Ritegnitrice! M542! Dietro i sacchi di sabbia! Verso sud! Pavel! Trovate un riparo! Ghiaccia patate! Correte! Batteria nemica! Vicino al camion! Coraggio! Fazziamoli fuori! E' un po' di fai di mezzo! Sanitato! Comunistano! 114-1. Batteria nemica! Accanto alle casse! Granata tedesca! B! Granata! Bravo! Sovietische Gruppen! In any dieser Kisten? Panteria nemica! Vicino alle casse dei ricordimenti! Sul fianco sinistro! Onorevoli soldati dell'armata rossa sovietica! Non abbiate paura di arrendervi! L'esercito tedesco è benigno! Da accompagno! E si fatterà con dignità e compassione! Se volete vivere, non opanete resistenza! Cettate le armi e avvicinatevi alla parola tedesca più vicina! Sono i genitori! E mettete le mani sopra la terza! Questo sarà il segnale che la vostra resa... Attenzione! Granata nemica! ...devanti e cure mediche! Quando la guerra sarà terminata, sarete liberi di tornare... ...a lupare! ...a lupare! Er braucht trefi! Er wurde getroffen! ...e non compagnia! ...e non compagnia! Maari, frizz! Discompagnia le rai min princ- ... ... ... ... ... Grazie a tutti! Totte! Totte i comunisti! Er braucht hilfe! Er wurde getroffen! Fischer! In deckung! Kommunistaaaaaannn! In der Nähe der Schurz! Knall sie ab! Sowjetische Truppen! Hade ins Anzeck da! Los doch! Wir müssen... Kommunistische! Fascisti! Vicino a quel mucchio di macerie! Davanti! Vadavia! Usate quel tubolo di macerie comunitano! Poveri fascisti! Avete fatto tutta questa strada solo per morire! Tedeschi! Vicino alle macerie! Coraggio! Facciamoli fuori! Un fascista in meno di quei preoccuparsi! Panzeria nemica! Fuoco! Panzeria nemica! Pasciania nemica! 줘 pasa! Tornava! Un movimento di combatto! Facisti hanno scoperto! Un'espressione! 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 Non è sicuro! Anche i sacchi di sabbia! Vania! Al riparo! Trovarca un riparo! Stranata, l'emica! Un'espressione! Un'espressione! una granata in arrivo subito l'ha ucciso Grazie a tutti! 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 Víctor! Traestatemi vicino! Grazie a tutti! 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 Via! Compagni! È qua! Hanno bisogno di noi! Allo scalo ferroviario! Andiamo! Ma che via l'amica! Oltre le casse! Le ho preso uno! Le ho preso uno! Le ho preso uno!